Per Grand Vision avere una massima integrazione per i canali vuol dire innanzitutto creare una sinergia tra quelli che sono i nostri negozi fisici, quindi la nostra rete di negozi e il canale online. Integrazione che deve essere con un obiettivo ben preciso, cioè quello di dare la massima soddisfazione al nostro cliente finale, il quale può scegliere di acquistare un prodotto in negozio oppure all'interno della nostra piattaforma nello stesso modo. Quindi per noi è sempre il cliente alla fine che decide in che momento e su quale canale entrare in contatto con noi e possibilmente anche poi effettuare un acquisto. Noi in Grand Vision abbiamo iniziato un progetto online proprio da subito pensando all'integrazione con il fisico. Da subito abbiamo messo a disposizione ai nostri clienti la possibilità di acquistare un prodotto all'interno dell'e-commerce e farlo spedire in negozio. È uno dei servizi che tra l'altro vediamo essere più utilizzati da parte dei nostri consumatori proprio forse per anche la natura dei prodotti che noi vendiamo. Si pensi un occhiale da sole lo acquisti online senza averlo magari provato. È molto rassicurante per i nostri clienti la possibilità di farlo spedire in negozio. I nostri addetti alla vendita non è che danno semplicemente il pacco e salutare un cliente ma aprono il pacco davanti al cliente e gli danno un servizio aggiuntivo che è un servizio di assestamento dell'occhiale addosso al cliente. Il cliente quindi può avere un'esperienza fisica con il prodotto, vederlo applicato al proprio corpo, al proprio viso e decidere se tenere il prodotto oppure cambiarlo. E diamo anche questa possibilità quindi la possibilità di ritornare il prodotto acquistato online in negozio o semplicemente scambiarlo con qualcosa che il cliente può trovare in quel momento in negozio che è di suo maggior gradimento. Sempre per cercare di connettere il più possibile i due mondi è quello di dall'online cercare di far comprare una categoria merceologica che noi non vendiamo cioè quella dell'occhiale da vista in negozio dando un incentivo, un coupon sconto su tutti i pacchetti e-commerce per un acquisto di un occhiale completo in negozio. La stessa cosa in negozio ci sono vari touch point all'interno dei nostri negozi fisici che promuovono la vendita online. Abbiamo un CRM con il quale sia online che offline possiamo raccogliere i dati dei nostri clienti ovviamente tutto normalizzato GDPR quindi non raccogliamo dati di clienti che non sono e non danno non sono consensuali quindi ci danno il consenso di raccoglierli ovviamente dai dati poi riusciamo a costruire tutte le nostre strategie di commerciali e di comunicazione. Il giorno d'oggi se fai e-commerce la logistica è uno dei punti sui quali bisogna lavorare di più nel senso che per fare e-commerce adesso devi cercare proprio per avere sempre il cliente soddisfatto devi cercare di dargli un servizio che sia il più possibile veloce rapido semplice e qui la logistica gioca essenzialmente fa la parte più importante insomma di tutto quanto il processo. Noi in questo momento riusciamo a garantire il next day delivery su praticamente tutti i nostri prodotti. Tutto quello che noi vendiamo online sugli occhiali da sole è in stock e quindi se il cliente lo acquista ad esempio oggi lo può ricevere domani. Diamo due giorni solamente su alcune parti d'Italia un po complesse come le isole però per il resto riusciamo a garantire il next day delivery e questo per noi è un punto molto importante come azienda perché ci differenzia e ci dà un servizio di particolare importanza quando andiamo a confrontarci con i competitors sul mercato e poi è molto importante per i nostri clienti perché possono trovare una determinata rapidità che oggigiorno è dettata da grossi player come Amazon, Zalando all'interno del mondo e-commerce. Se non dai questo tipo di servizi e quindi la logistica non si evolve e sta al passo con i tempi è difficile giocare online con questi player e dare un servizio apprezzato e competitivo per i clienti.